È da giovedì che Prato è nella morsa del caldo torrido. I termometri della città hanno registrato 40 gradi ogni giorno. Molti pratesi rimasti in città in questo caldissimo sabato hanno cercato refrigerio alla piscina comunale di Via Roma. Sono in ferie, sono venuto in ferie, sono qui qualche settimana e quindi oggi con questa giornata di caldo ho pensato che potevamo affrontare bene il caldo andando in piscina, noi siamo di Tobiana qui vicino quindi ci abbiamo messo, sono di Via Roma, è sempre un bellissimo posto. Poi lui viene da Londra quindi l'ho portato a prendere un po' di sole italiano. Caldo ma va benissimo, anzi caldo ancora meglio, ci si butta in piscina. È anche la prima giornata che riusciamo a farci in piscina dopo questo periodo così duro. Ci voleva con questo caldo sicuramente rinfrescarsi un po', prendere un po' di pausa da questa calura. C'è chi si diverte in piscina ma anche chi ci lavora. Come sta andando questo mese di agosto? Sono giorni intensi e per fortuna i cittadini pratesi hanno deciso di venire qui in piscina in Via Roma per approfittare insomma di un buon modo per difendersi dalla calura. Siamo molto contenti perché nonostante le limitazioni numeriche del Covid, la prenotazione per il tracciamento. Si sono dimostrati molto pazienti anche nell'affrontare delle lunghe file dovute al grande numero di persone che sono venute all'impianto però hanno potuto godere della pineta del parco della piscina di Via Roma, delle vasche. Ci siamo avventurati anche nel centro di Prato dove abbiamo incontrato soprattutto turisti alla scoperta delle bellezze della nostra città. Siamo turisti, veniamo dalla Polonia. Francamente a me piacciono le temperature alte, per me vanno molto bene ma non per la mia famiglia, specialmente i bambini. È la nostra ultima giornata di caldo perché poi dopo ritorneremo in Germania e lì ci sono 17 gradi.